Ben ritrovati ragazzi nella rirobacraft Benvenuti in questo nuovo episodio Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti signori Oggi sono abbastanza raffreddato Mi hanno mischiato il raffreddore i miei figli, mia moglie, tutti quanti Per cui mi sentirete la voce un po' ottovattata Ottovattata Vi ricordo come sempre Spero di sì perché tutto dovrebbe andare bene Alle 18 dovrei essere in live Un'oretta con Minecraft e poi con altre cose Ed Enderman Ragazzi La contentezza Ho fatto la quest Ho fatto la quest La contentezza Finalmente funziona La Maradam Ho fatto la quest Gli dicevo in live su Hitbox Mi raccomando in descrizione Trovate il link E vi intendo a trovare verso le 18 con Minecraft Poi farò Payday, CS e tutti gli altri giochi Che ho sempre fatto Ragazzi Siamo a cavallo Ho fatto la quest Ho fatto Guarda qua Guarda qua Pam Un po' di roba Wow Mettiamo via tutto quello che non ci serve Abbiamo delle borsette da aprire Anche perché poi in live Non l'ho più fatto Nello scorso video Porca civetta Non l'ho fatto in tempo Perdonatemi Andiamo a mettere a posto questa roba E oggi Facciamo un po' di cosette molto fighe Già avrete visto nell'inventario Che ho un qualcosa di diverso Cioè di strano Ho un qualcosa in più Ok? Queste qua Della Della smeltery Vabbè avete visto Questa borsetta La apriremo dopo Ok 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 Allora Facciamo una piccola modifica Qui Via questa chest Speriamo Di riuscire a prendere tutto Nell'inventario E invece no E invece no Allora a questo punto Facciamo così Andiamo a prendere la chest Qui Speriamo di prenderla Intanto vi ricordo Ragazzi Tanti like Condividete Scommentate Tutto quello che volete Mi raccomand Allora Via questa roba Di qua Perché non va bene Eh lo so Lo so Lo so Siamo anche nella notte Di luna piena qua Attenzione Lo mettiamo Qua Un gacchio Qua Qua è perfetto Ok Via questo recinto Che non ci serve Riveliamo un po' di spazio E anche qua Oh là Qua Facciamo un po' di spazio Oh Le ceste le mettiamo qua Così non danno fastidio Ecco qua Mettiamo via tutta Questa roba Ok Via E via Oh Fatto 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 Allora qua stavo raccogliendo un po' di Pietra Che mi servirà Per cui io Continuerò a fare un po' Sì pietra Ferro scusatemi Farò un po' di ferro Dovrei fare 5 più una ceste Sì perché devo fare un hopper Più o meno un hopper basta Dovrebbe bastare Diamo un po' L'hopper è così Sì mi sembra un altro ferro Allora Ok Perfetto Allora una piccola cestica Eccola qua Pam 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 Ragazzi sto cercando di fare cose nuove durante i video Che non ho fatto nella serie scorsa E cose fatte rifatte durante i live Ok Per cui oggi in live per esempio Se riesco Mi costruisco i grandi magazzini E vediamo che fare Che ne pensate Abbiamo l'hopper Per cui Via questa roba Pam 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 Via questo E via questo E via questo Vedete comunque non si rompe Perché abbiamo la fornace sotto Credo Buona Vabbè comunque Mettiamo doppiolo Uno e uno quattro Mettiamo questo al centro Rimettiamo i beccuccianti Uno E mi manca un beccucciante Non l'ho fatto Il casting channel Che cacchio ho fatto? Questo mi serviva Io cacchio ho fatto il casting channel Vabbè Fa niente Questo qua Mettiamo i tavolacchi Ragazzi E facciamo un Coso nuovo Allora Mi servono quattro lingotti di ferro Erano quattro lingotti di ferro Si Ma voglia Erano quattro lingotti di ferro Yes Ah però dobbiamo fare un altro di questi Allora prendiamo un lingotto qualsiasi Lo prendiamo subito E di qua poi invece facciamo con Alluminium Lo abbiamo Fantastico Lo mettiamo qua E facciamo un altro casting Ottimo Abbiamo il doppio casting Fantastico Ora possiamo fare due volte il ferro Uno E uno due Alleluia Poi mi servono quattro Ce li abbiamo Uno due No Me ne servono altri Di queste qua Facciamo così E ma si Ne cuociamo un po' Ma che ce ne fotte Comunque servono sempre Ah ecco qua Doppio Uno due Facciamone altre due Poi mi servono quattro redstone Che li abbiamo vero? Un due tre quattro Giusto? No mi manca la redstone Scusatevi R Mi manca la redstone Oh R Ho detto R La redstone esce da Esce da Dust 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 Io ho della dust Yes Per cui andiamo a Crattifignare un po' Mi basta una redstone E intanto ragazzi Come i vecchi tempi Tappatevi le orecchie Paraparaparaparaparaparaparaparaparaparaparapara Ho un raffreddorissimo ragazzi Allora oggi usciranno un po' di video Spero E da oggi inizieranno un po' di giochi nuovi Serie nuove Ci allontaneremo un po' dal canone di Minecraft Tornerà CS Torneranno un sacco di cose ragazzi Già da domenica lo avrete visto E inizieranno Inizierà Pday di brutto Inizieranno un bel po' di cose Ma perché non esce? Redstone eccola qua Fantastic for you babies Anglosassone Dai via tutta questa roba che non ci serve Gentilmonte La redstone mi serve Allora via questi Via questi che non mi servono Via tutti Questi qua mi servono dopo Ok allora abbiamo la redstone Andiamo qua Facciamo una torcia di redstone Papapam pam Tatankete Poi abbiamo bisogno di 4 pezzi di ferro E 4 pezzi di redstone Era 4 pezzi di ferro Sapete che non mi ricordo? Erano 4 ferri Voilà Eccolo qua Non era ferro ragazzi Ma era stone Così No vabbè Ah era stone L'ho anche cotta Sono pirla Sono pirla Mamma mia Oh allora Com'è? Fatto Pampete Facciamo una piccola torcia E torcia E oh 30 anni di minecraft Sbaglio sempre a fare le leve Lo mettiamo qua Lo mettiamo qua al centro Ragazzi Questa è la extra utilities È un blocco continuo Lo chiudiamo un attimo Vedete? Se noi lo lasciamo senza leva O comunque con la leva aperta Lui continuerà a fare A produrre quello che c'ha Ed è una cosa fighissima questa Sbaglio? Abbiamo ancora 50 nullingotti da fare Io ora vorrei fare due hopper Ho fatto bene a fare il ferro Me ne servono altri Ottimo Facciamo altri due hopper No un hopper scusatemi Allora una piccola chest Voilà Facciamo un altro hopper Subito subito così Ok E questo hopper ci servirà per Allora io metterei una piccola chest Qua Qua mettessi una chest Perchè facciamo un'altra chest Perdonatemi Possiamo fare anche in ferro la chest Ora che ci penso Facciamo un po' di ferro Ora che ci penso Me ne servono Bastano 8 Eccola qua Chest in ferro Ottimo La mettiamo qua Ottimo Ora Togliamo qua sotto E ragazzi è semplice Comunque fatto Dai fatto 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 Mettiamo gli hopper Uno verso la chest Di qua E uno verso la chest Di qua Pam Fatto Niente di più semplice Qua togliamo magari qualcosa E facciamo una piccola discesa Ok Tipo così Non è male Dai Facciamo così Oh là Ecco qua Abbiamo la salita La discesa La discesa La salita Ragazzi Ora guardate Se io attivo L'ambaradam Facciamo I lingotti Di qualsiasi materiale abbiamo dentro I lingotti Passerò sotto Nell'hopper E vanno a finire Nella chest Oh my god Oh my god Qua abbiamo del copper Per esempio Noi andiamo a cuocere Il copper Anche Facciamo Tutto I big tooth Piccolo impianto Funzionante Ottimo Questa fornace Quando è attiva Ragazzi Guardate come mi lagga il mondo Porca di quella civetta Nata Nata Allora Vediamo un po' Che queste possiamo fare Siamo bloccati Beh L'auto tool station Si potrebbe fare Auto Tanto ferro Ne abbiamo L'auto tool station Ok Mi serve della redstone Vado subito La cosa bella Che la redstone È molto comune Ragazzi Ma mi serve Logicamente non esce Una cosa amici Che mi sono dimenticato Intanto guardate Dalla fornace Esce il liquido giallo Quello era l'aluminium Ho spostato Di qua Il coso Della 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 cobblestone E l'ho rimesso lì Perché Vi faccio vedere L'ho messo direttamente A fare lava Eh sono stato bravo Così possiamo fare Giallo ossiliana Fare il nether E un sacco di robette Facendo nether Andiamo a prendere La La cosa Lì La cobblestone del nether Non mi ricordo La bed No la Oh come si chiama Vabbè quella cosa lì Così abbiamo 100% Di oro Capito né Oh e la redstone Non sta uscendo Eccola qua E il redstone fu Ok vedete Poi intanto Qua si blocca Questo è Ho sbagliato io Qua ci andava il lingotto Vabbè abbiamo perso Un picco qua Un picco qua abbiamo perso Va bene Allora Rimettiamo questo Pampete Rimettiamo questo Pampete E lui può continuare A fare copper Guardate un po' Mamma mia Come sta funzionando Bana Come sta funzionando Bana Allora Sono sceso Per prendere Del ferro appunto Prendiamo un po' di ferro Che ora ne abbiamo un bel po' Mamma mia Ho messo a posto Tutto l'inventario Ma mi sono dimenticato Di prendermi questo Ok Allora Andiamo qua Palapam Una chest Facciamo un hopper Che mi serve Un hopper Voilà Poi facciamo un pistolone Voilà Dovremmo riuscire a farlo Eccolo qua E dovremmo essere a cavallo Quattro lane Quattro Sei lane Mi servono Sei lane Sei lane Dovremmo averle Comunque Aspettate Sei lane Sei lane Dovremmo averle Dovremmo averle Sei lane Abbiamo 12 Allora Abbiamo la lana Poi mi serve Un tavolo Di questi qua Che si fa Semplice Allora Facciamo una piccola Questa Voilà Fatta Mi serve uno di questi qua Un pattern di questi qua Oh uno E vabbè Fai come vuoi tu allora Fatto Allora Questo qua Con questo qua Facciamo questo qua Ottimo Fatto Possiamo fare L'auto tool station Che è una cosa che ci serve Comunque abbiamo fatto una quest Lo possiamo mettere qua Per adesso dai Che ce ne fotta noi Ottimo Allora Dobbiamo Riguardare la quest E forse Forse Siamo andati avanti Una cosa che ora ragazzi Possiamo fare Subito subito Prima di chiudere il video E portarci avanti Col lavoro E creare Mi è arrivato qualcosa sul telefono E creare la zona La zona Per spawnaggio Delle mucche Spawnaggio Io andrei qua sotto E andrei a prendermi Quello che è mio Ossia La terra Arriviamo fino alla fine Non un po' E questa è la fine Yes No Ancora si può scendere Ancora si può scendere Facciamo così Non facciamo danni E andiamoci a prendere Un po' di Terra Ok Siamo arrivati alla fine Dovrebbe essere l'ultimo cubo Questo qua Vediamo un po' No ancora Allora Ma quanto è l'u E vabbè raga Oh mio dio Abbiamo tutta la terra che vogliamo Allora Io farei una cosa del genere Senza fare tutta la strada poi Andiamo qua Tanto lo abbiamo Usiamolo Usiamolo Mamma mia Ok siamo arrivati alla fine Ecco la fine Prendiamo Più Più Aia Aia Qua è pericoloso Aia Qua è pericoloso Aia Qua è pericoloso Eh Forse è meglio andare Un piano in su Dai Sì andiamo un piano in su Vabbè Quanto ho scavato Due stack E sette Li ho fatti Allora Potrei fa Eh qua è pericolosissimo Adesso uscirne Vedi Dove facciamo la zona mucche Io la farei Papapam Papapam Qua Ma si La facciamo qua Allora Cioè andiamo a prendere Ciò che è nostro Poi alla fine Non ho usato più questo Andiamo a prendere la wound And the wound Entra lì Anzi ne farei un'altra in ferro Visto che la sto terminando Eccola qua Allora Dove la facciamo Io la farei Qua Perché no Qua Ok Ho fatto dieci E stavolta la facciamo un po' più lunga Facciamo dieci per venti Più o meno Dai E vabbè Però ho finito la cobblestone La terra E questa è un po' una stronzata È un po' una stronzata questa Porca civetta Porca civetta Ah no ho finito la wound Ok ho finito la wound Il contorno poi Pirletti lo facciamo così Allora Eh Riuscirò a fare Così Fantastico E continuiamo Ah però non ci arriva Per poco Guarda lì Ne fa nove Ne fa nove Non ci credo Ne fa solamente nove Da Per cui è un nove No niente Nove nove Allora Qua mettiamo una bella torsica Fatto E fatto Andiamo a prendere l'altra terra Abbiamo fatto Quanto è lunga Uno Abbiamo il metro Che è più il resto Da qua A qua Quanto è lungo Da qua A qua È lungo Allora sono scemo Da qua A qua Abbiamo fatto Tredici Più uno La quattordici Ok farei ancora Ancora sei Dai Sì ancora sei Allora cerchiamo di Chiudere qui Dovremmo farcela Spediamo in bene Yes Sì a voglia Ce la facciamo Fatto Vai Ok Abbiamo fatto un dieci per venti Ragazzi Ora mettiamo un po' di recinto E siamo a cavallo Per cui torcia qua Torcia qua Siamo a cavallo Un po' di recinto intorno Manca la legna Oh Mi sono bloccato Dai che cacchio è successo No vabbè raga Riesco a fare qualcosa Tipo Che cacchio ne so La E tipo Qua Oh Mi sono salvato Mamma mia GG portal gun Mamma mia Mamma mia GG portal gun ragazzi Allora Via gli alberi Facciamo la legna Oh tre stack dovrebbero bastare eh Di recinto Porca ciabatta Vai vediamo un po' Facciamo così Mettiamo il recinto lì Senza cadere giù Senza cadere giù Ok Dovremmo essere a vacallo Con le ciabatte E le marmotte Vediamo un po' Fantastico Qua facciamo l'entrata La facciamo doppia Per cui vediamo un po' L'entrata Dove si può fare L'entrata è qua Facciamo tripla allora a questo punto Uno Due E in avanti Uno due tre Fantastico Mettiamo qua la torcia Dovremmo essere a cavallo Ottimo 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 Facciamo così allora Mettiamola Ok Ora tre entrate Ambra bappite E abbiamo fatto tutto Uno due e tre Uno due e tre Ragazzi qua Dovrebbero spawnare Le mucche Le amardam Forse l'ho fatto Troppo vicino casa Forse per quello Che non spawneranno Dovrei allontanarmici Un po' Di più Ragazzi siamo giunti Alla fine Anche di questo episodio Abbiamo fatto un bel po' Di roba oggi Ammettiamolo E dunque ci vediamo Stasera E live Vale 18 Un'oretta con minecraft E poi tanti altri giochi Un bacione Un abbraccio Raccogliamo questi qua Che questi qua Sto piano piano Farmando Ciò che mi serve Anzi un seme Lo userò qua Oh E gli altri Dovrei metterli qua Perché mi devo arrivare A 24 Se non mi sbaglio Per cui Ce n'è un po' Ce n'è ancora un po' Allora io dovrei avere Da qualche parte Una pannocchia Eccola Facciamo così Ce ne danno due Ottimo Iniziamo La raccolta Ecco Un bacione Un abbraccio Ci vediamo al prossimo video E stasera in live Tanti like Mi raccomando Ciao Ciao